La prossima discussione la introdurrà Federico e sarà un po' anche una prosecuzione del dibattito precedente in quanto qui partiamo invece da quelli che sono stati i movimenti per i diritti omosessuali delle persone LGBT e anche di liberazione della donna invece più concentrandoci sull'esperienza italiana degli anni 60 e quello che è invece la critica marxista, i limiti della direzione di questi movimenti. Lascio subito la parola a Federico. Compagni, affrontare la storia del movimento omosessuale italiano in una fase caratterizzata da una crisi così profonda, così totale del capitalismo da un certo punto di vista potrebbe sembrare secondario. In realtà i fatti anche più recenti, la vittoria elettorale della destra, le prime sparate del governo e un po' di tutti i suoi epigoni, Fontana eccetera eccetera, direi si sono incaricati di dimostrarci in realtà corretti in questa scelta perché hanno dimostrato ancora una volta che le questioni di genere hanno oggi una capacità davvero straordinaria di mobilitazione in particolare dei giovani e sono veramente al centro dell'attenzione, motivo per cui si rende necessaria anche una chiarificazione teorica come quella che abbiamo cominciato a fare dalla sessione precedente. Allo stesso tempo, sempre la vittoria della destra ha portato nuovamente a serpeggiare anche a sinistra, in particolare in campo stalinista, certe idee in base alle quali la vittoria della destra sarebbe spiegabile in qualche modo con il tradimento dei diritti sociali da parte della sinistra e con la loro sostituzione con i diritti civili che è una posizione intanto abbastanza facilmente criticabile nel senso che stiamo parlando, se parliamo di PD non è che stiamo parlando di sinistra però anche pensando a un immaginario così comune l'impegno sui diritti civili è stato chiaramente estremamente parziale, estremamente del tutto insufficiente, veramente una foglia di fico ma poi anche la realtà per cui ci sono forze, PD, sinistra e PD che utilizzano i diritti sociali per nascondere effettivamente il loro tradimento dei diritti civili per nascondere il loro tradimento dei diritti sociali in ogni caso non ci deve far dimenticare il fatto che la stragrande maggioranza delle persone LGBT appartengono alla classe lavoratrice e quindi combattere per mettere fine alle discriminazioni che riguardano le persone LGBT+, fa parte della lotta di classe, fa parte della lotta per eliminare, per conquistare più diritti per la classe lavoratrice nel suo complesso senza dimenticare che poi l'homo bitransfobia è alla radice un'arma a disposizione della classe dominante tanto più in questa fase di crisi per sviare la rabbia sociale che sta montando verso altri bersagli assolvendo puntualmente poi i padroni, i banchieri e i politici che ne fanno gli interessi ecco per questi motivi quindi c'è bisogno di un chiarimento teorico di una lettura di classe di una posizione marxista su queste questioni e quello che cercheremo di fare in questa sessione che cercherò di fare in questa relazione insomma non è tanto inquadrare, fornire un inquadramento proporre un inquadramento teorico complessivo della questione LGBT da dove nasce l'oppressione e così via perché su questo c'è da dire che la nostra tendenza da anni sta portando avanti un approfondimento teorico con tutta una serie di documenti sulle questioni, sulle politiche identitarie sulla teoria queer, sull'intersezionalità documenti ai quali è necessario rifarsi che comunque costituiranno la base della nostra discussione ci interessa di più concentrarci sulla storia del movimento omosessuale italiano soprattutto negli anni 70 per cercare di capire, per studiare un po' come è avvenuto se e come è avvenuto l'incontro fra movimento omosessuale e movimento operaio e perché questo incontro in ultima analisi è stato infruttuoso e cosa ha portato anche a livello di idee naturalmente due precisazioni vanno fatte la prima noi utilizzeremo un movimento omosessuale parleremo di movimento omosessuale perché questo era il termine che si usava allora l'idea del movimento LGBT nasce dopo quindi non lo usiamo in senso insomma per escludere ma perché appunto ci rifacciamo alla terminologia che si usava allora altra questione naturalmente per ragioni di tempo siamo costretti a lasciare fuori tutta un'altra serie di questioni che sarebbero interessantissime per esempio lo sviluppo del movimento più specificamente lesbico di quello trans che insomma possiamo rimandare o a spunti nella discussione o ad altri o ad altri momenti come sappiamo la data fatidica è il 28 giugno del 1969 quando cioè si verificano i famosi moti di Stonewall Stonewall è un bar gay di New York dove avviene in questa notte una delle in realtà molto comuni retate poliziesche che avvenivano allora nei centri di ritrovo omosessuali la differenza è che questa volta a questa retata si risponde e quindi si respinge con lo scontro fisico questo attacco della polizia e questa è una novità assoluta è molto interessante questo anche perché anche se adesso ci sono anche dei film che parlano raffigurano questo evento un po' leggendolo attraverso queste lenti anche piccolo borghesi e così via è il punto interessante da notare che questo era un bar frequentato non da persone dell'alta società diciamo dell'alta borghesia oggi c'è molto questa spinta anche nell'immaginario culturale a presentare le questioni LGBT come qualcosa che riguarda solo la borghesia in realtà questo era un bar frequentato da gente da proletari da afroamericani da immigrati insomma da tutta una serie di persone sottoposte sia insomma anche allo sfruttamento o a diverse forme di oppressione e non è un caso che quindi sia da questo contesto che si sviluppa questa risposta anche militante alla repressione poliziesca tra l'altro quando si dice oggi il primo Pride fu rivolta ci si riferisce proprio a questo a questo evento perché è da questi moti che poi nasce anche la manifestazione del Pride da questa dalla rivolta dello Stonewall del 69 nasce negli Stati Uniti il primo movimento di liberazione omosessuale che prende il nome di Gay Liberation Front che segna anche una vera e propria virata in realtà verso posizioni rivoluzionarie anche se molto spesso confuse però l'aspetto interessante è che nella piattaforma del Gay Liberation Front si trovano la lotta contro le violenze poliziesche il diritto alla casa l'antirazzismo e l'antimperialismo e quindi questo è molto interessante e voglio dire si spiega anche con come dire con la provenienza di classe anche delle persone che animavano questo movimento e poi naturalmente un ruolo fondamentale anche nell'incoraggiare questa risposta militante alla repressione arriva dal clima generale internazionale di quegli anni con una lotta di classe in alta in alta marea proteste contro la guerra per i diritti civili insomma è un periodo di movimenti impetuosi e quindi questo gioca anche un ruolo nel portare alla nascita anche del movimento omosessuale a portarlo anche su posizioni e su metodi militanti tant'è vero che il respiro internazionale di queste rivolte fa sì che anche il movimento omosessuale molto presto sin dal primo momento praticamente si sposti poi dagli Stati Uniti anche all'Europa e all'America Latina in un primo momento all'America Latina quindi uno dei primi poi prendono tutti un po' questo nome fronte di liberazione omosessuale movimento di liberazione omosessuale uno dei primi già nel 71 nasce in Argentina tra l'altro da attivisti che vengono espulsi dal partito comunista argentino e poi nasce in Francia e quello francese sarà fondamentale poi per la nascita anche del movimento per l'organizzazione del movimento italiano data anche la vicinanza della Francia rispetto a Torino che è un po' prende vita quello che in Italia prende il nome di fronte unitario omosessuale rivoluzionario italiano la sigla fuori che rimanda all'idea naturalmente dell'uscire fuori cioè del coming out del proclamare con orgoglio la propria la propria omosessualità e dicevo nasce a Torino perché a dare la scintilla un po' per la nascita del fuori è una risposta che un libraio torinese Angelo Pezzana dà alla recensione che appare sulla stampa di un libro l'infelice che ama la propria immagine dove sostanzialmente si afferma la natura patologica e narcisistica dell'omosessualità quindi questa Angelo Pezzana scrive questa risposta per la stampa e da lì comincia anche a organizzarsi il primo nucleo che poi dà vita appunto nel 71 al fuori e tutto sommato sarà un'organizzazione con un centinaio sostanzialmente di militanti poi cresce però insomma la consistenza è un po' questa all'inizio sostanzialmente spalmati fra Torino Milano e Roma con il giornale omonimo appunto fuori si chiama che tira sulle 8000 copie la prima uscita pubblica del fuori avviene il 5 aprile del 72 in occasione del congresso internazionale di sessuologia che si svolge a Sanremo è molto interessante perché era un congresso che si chiamava congresso sulle devianze sessuali quindi probabilmente sarebbe stato interessato il signor primo ministro il signor presidente del consiglio a questa cosa e questa è importante perché è la prima manifestazione pubblica di un gruppo apertamente omosessuale per cui anche in Italia si passa su un piano più militante di contestazione in piazza e si passa anche a una come dire non a rivendicare in un certo senso la propria accettabilità la propria la possibilità di conformarsi ai canoni della società borghese ma si passa a contestare questa idea stessa di normalità e non è un caso che lo si faccia proprio a un congresso di sessuologia in cui appunto si definisce cosa si può considerare normale e cosa no parlo di svolta perché non bisogna pensare che prima ci fosse il deserto totale che prima non ci fosse nulla sostanzialmente il tra molte virgolette il movimento omosessuale era prima organizzato in queste associazioni omofile si definivano così nate negli anni negli anni 50 che sostanzialmente hanno una strategia un po' quello che dicevo prima cioè di proporsi come rispettabili accettabili dalla morale comune e dalla società senza poi mettere in discussione i ruoli di genere e tantomeno la società la società stessa e i rapporti sociali e sono posizioni che vengono che vengono criticate duramente poi anche dal fuori anche perché oltre a essere piuttosto innocue se ci pensiamo sono anche antiproletarie perché sono i borghesi che hanno la possibilità di potersi presentare come accettabili secondo senza mettere in discussione senza mettere in discussione l'organizzazione della società mentre chi fa parte della classe operaia invece molto meno tempo da perdere a supplicare la comprensione dei borghesi benpensanti diciamo che poi a sua volta se ci pensiamo l'omofilia arriva in conseguenza anche dell'influenza poi anche qua dello stalinismo che con le sue posizioni reazionarie bigotte su queste sulle tematiche di genere aveva un po' portato alla distruzione invece dei primi rapporti fra questioni anche omosessuali oltre che di genere in generale e movimento rivoluzionario e idee comuniste ne abbiamo parlato ne abbiamo parlato prima poi vediamo se riusciremo a riprendere questi temi nella discussione o nelle conclusioni comunque il fuori quindi nasce con questa con questo fortissimo respiro militante e tra i capisaldi del suo programma anche qua troviamo la critica alla famiglia monogamica negazione dei ruoli sessuali di genere critica della patologizzazione dell'omosessualità e delle istituzioni psichiatriche che la mettono in atto e questo ci interessa particolarmente la necessità di stringere un legame con l'avanguardia rivoluzionaria in cui loro inserivano anche i gruppi femministi a loro incipienti però c'è questa c'è questa spinta verso posizioni rivoluzionarie che in realtà si presenta fin da subito nelle pubblicazioni nelle pubblicazioni del fuori per esempio sul numero zero del giornale omonimo appunto appare un documento intitolato ai compagni rivoluzionari in cui la rivoluzione sessuale viene considerata parte integrante della rivoluzione sociale e politica con queste parole siamo convinti della necessità di una rivoluzione sessuale parallela integrata nella rivoluzione politica che è in atto in tutti i paesi e una posizione molto simile viene anche espressa da uno di quelli che sarà i principali dirigenti e teorici del fuori ossia Mario Mieli in un articolo più o meno coevo per la critica della questione omosessuale dove Mieli sostiene che gli omosessuali devono partecipare attivamente alla lotta di classe perché da sola l'emancipazione politica lui dice l'emancipazione politica oggi forse diremmo diritti civili da solo i diritti civili non bastano perché lui dice l'emancipazione politica si dilegua nei fatti mentre resta codificata in leggi astratte e continua c'è una citazione un po' lunga ma penso sia importante nei fatti la libertà che garantisce la legge è la libertà di essere degli esclusi degli oppressi dei repressi dei derisi degli oggetti di violenza morale e spesso fisica l'omosessuale che conducendo quel processo critico che procede dall'apparenza della sua esistenza verso la scoperta della sua realtà sociale e riconosca con chiarezza nella famiglia nella morale nel fallocratismo nell'oppressione della donna eccetera i principali negatori del suo diritto di esistere diventa allora un rivoluzionario riconoscendo nel proletariato il veicolo dell'emancipazione dell'umanità intera c'è tra l'altro in tutta l'elaborazione del fuori un po' come dire un'idea per cui si mettono sullo stesso piano si coglie il rapporto fra la società divisa in classi e anche la scienza medica borghese che in qualche modo patologizza l'omosessualità e vengono identificate entrambi come due facce della stessa medaglia cioè del capitalismo che quindi deve essere come dire criticato e rovesciato anche per arrivare a una vera e propria liberazione sessuale questa però è una delle anime che convivono all'interno del fuori accanto a un'altra un'altra ala che invece propende esplicitamente verso l'interclassismo e non è che semplicemente propende cioè lo teorizza apertamente cioè c'è un'altra c'è un'altra frazione del fuori guidata poi da Angelo Pezzana quindi il fondatore del fuori che sostiene che dal momento che l'oppressione di genere riguarda tutte le persone che appartengono si riconoscono in un determinato genere la risposta debba automaticamente essere di conseguenza a sua volta interclassista Pezzana scrive in un articolo che appunto si intitola l'interclassismo omosessuale forza rivoluzionaria che è proprio dalla collaborazione di tutti gli omosessuali oppressi a qualsiasi classe appartengono che nasce il movimento di liberazione poi lui dice il movimento di liberazione omosessuale deve collocarsi accanto al movimento operaio quindi non è che sostiene un'esclusione rispetto ai due però dice si deve collocare accanto al movimento operaio e già qua in realtà già qua in realtà si presenta il primo problema perché non si capisce cosa si intenda per collocarsi in parallelo al movimento al movimento operaio è di fatto una rinuncia a partecipare attivamente a inserirsi nella lotta di classe e sostanzialmente a chiudersi in un quadro riformista perché si spalancano le porte al compromesso con dietro questa idea dell'interclassismo di fatto al compromesso poi con la con la borghesia secondo un'idea per cui la liberazione omosessuale può avere luogo anche senza l'abbattimento del capitalismo o comunque prima dell'abbattimento dell'abbattimento del capitalismo queste sono posizioni chiaramente che riflettono l'ideologia e la mentalità della piccola borghesia che partecipa anche alle contestazioni del 68 degli anni 70 e impiega a sua volta una fraseologia rivoluzionaria però non si fa sostanzialmente non si fa poi scrupoli ad abbandonare le classi subalterne nel momento in cui riesce a conquistare maggiori margini di accettabilità e di manovra all'interno del capitalismo e qui si vede già perché la discriminante di classe è fondamentale anche all'interno delle questioni LGBT nel senso che chiaramente c'è un fondo di chiarezza nell'affermare che certe conquiste si possono ottenere anche all'interno del capitalismo però rimane la questione fondamentale di chi è in grado di godere poi di queste conquiste e se non si affronta se non le si legano anche al tema dei diritti sociali e quindi della lotta di classe chiaramente la massa resta poi esclusa anche dalla maggioranza delle conquiste che si possono ottenere naturalmente chiunque ha da beneficiare dalla conquista di un clima meno violento meno discriminatorio e così via ma c'è un limite entro cui poi chi appartiene alle classi subalterne riesce a godere di questi diritti e questo limite è in prima battuta di tipo economico queste sono tutte contraddizioni che naturalmente emergono all'interno del fuori quindi il fuori alla fine non riesce a produrre una linea una linea coerente su queste questioni quindi per tutta l'esistenza del fuori un po' questa idea dell'interclassismo convive con l'idea della rivoluzione ci sono gruppi locali che prendono una posizione per l'uno o per l'altra per l'altra il dibattito è anche molto ricco è anche molto interessante e fondamentalmente quello che manca a portare la chiarificazione che sarebbe stata necessaria è il contatto con il movimento operaio e l'influenza del marxismo in che senso manca il fuori fin dalle sue prime iniziative cerca di raggiungere il movimento operaio partecipa alle manifestazioni del primo maggio partecipa alle iniziative operaie e così via il problema è che il peso della tradizione dello stalinismo nelle direzioni del movimento operaio unito chiaramente ai forti limiti anche di parte del movimento omosessuale che non ha veramente abbiamo visto non ha interesse in realtà a partecipare alla lotta di classe ecco questi elementi evitano che questo incontro con il movimento operaio abbia luogo in modo fruttuoso e completo e soprattutto il moralismo le posizioni reazionarie dello stalinismo anche su questo tema portano vengono interpretate da una parte del movimento omosessuale come rifiuto del socialismo e del marxismo to cure per esempio un testo molto influente di quegli anni è il manifesto omosessuale di Carl Whitman pubblicato tra l'altro da Red Butterfly che si proclama cellula marxista dentro il Gay Liberation Front quindi è interessante che una cellula marxista affermi che sia i paesi capitalisti che quelli socialisti ci hanno trattato come persone sgradite e quindi se ne deduce che il socialismo non possa essere una soluzione valida uno dei temi divisivi per eccellenza in quegli anni è Cuba e le discriminazioni verso gli omosessuali che hanno luogo a Cuba e però ripeto questo viene da certe frange esteso a tutto il marxismo per esempio in un articolo del gruppo di Bologna in cui si si lancia un attacco diciamo a tutto spiano che colpisce un'equazione che loro fanno dicono si criticano quelli che loro chiamano i feticci da altri tempi cazzo uguale barba uguale Marx Lenin Che Guevara plagiati dalla loro concezione operaista e produttivista qua vale un attimo la pena di soffermarci su questo perché questa è una critica che viene tutt'oggi da attivisti LGBT spesso rivolta al marxismo e ai marxisti cioè che è a Marx ed Engels in particolare cioè si dice che la natura l'origine del male dello stalinismo starebbe in realtà già in Marx ed Engels in questa concezione produttivista un'altra accusa che viene loro rivolta è quella di essere degli omofobi e che quindi in questa omofobia di Marx ed Engels appunto si anniderebbe il peccato poi originale dello stalinismo questa l'accusa di omofobia in particolare si aggrappa a un carteggio del 1869 nel quale Marx ed Engels commentano i libri che erano stati loro inviati da Karl-Heinrich Ulrich un autore omosessuale di metà ottocento che aveva scritto sul tema e commentando questi libri in questo carteggio privato sottolineo si lasciano andare a dei commenti omofobi di pessimo gusto effettivamente ora per noi questi commenti non sono giustificabili chiaramente noi non abbiamo problemi a dirlo proprio perché nei confronti anche di questi giganti del pensiero dell'azione rivoluzionaria noi non abbiamo con loro non abbiamo un rapporto religioso un rapporto fideistico non abbiamo nessun nessun timore ad ammettere che erano uomini dell'ottocento e potevano avere certi pregiudizi però allo stesso tempo dobbiamo dire con forza che quello che si dice delle battute in un carteggio privato non sono assolutamente paragonabili per esempio a un'opera che oggi è stata citata più e più volte cioè l'origine della famiglia della proprietà privata e dello Stato che è tutt'altro che un carteggio che uno scambio di lettere è un'opera monumentale in cui teoricamente si analizzano l'origine della famiglia il rapporto fra la nascita della famiglia monogamica etero patriarcale con la società divisa in classi con il capitalismo e così via e che dà delle coordinate fondamentali per raggiungere per ottenere per conseguire la liberazione di genere compresa la liberazione LGBT quindi è assolutamente capzioso è una cosa che noi respingiamo da parte di chi accusa Marx ed Engels di omofobia insomma respingiamo questa accusa perché non si può non ci si può aggrappare a un carteggio privato che ripeto contiene delle formulazioni che anche noi critichiamo per negare invece quello che è il pensiero fondamentale di Marx ed Engels che può essere anche utile alla liberazione alla liberazione LGBT per non parlare poi di tutto quello che abbiamo detto nella sessione precedente insomma anche la pratica dei bolshevichi dei rivoluzionari marxisti nel novecento in Russia e non solo dimostra che tanto le accuse di omofobia quando produttivismo sono totalmente infondate sappiamo l'abbiamo detto anche prima che l'omosessualità viene depenalizzata in Russia fin dai primi mesi del potere rivoluzionario e questo dovrebbe bastare per respingere queste accuse però appunto tornando agli anni 70 questo cocktail di interclassismo riformismo del movimento omosessuale e ostilità del movimento operaio e della sinistra dentro il fuori il pc dall'altra priva oggettivamente il movimento omosessuale di quei benefici di quella chiarificazione teorica che sarebbe potuta arrivare da un contatto più stretto anche con il movimento operaio e con le idee del marxismo e chiaramente in mancanza della classe operaia anche gli omosessuali cercano il movimento omosessuale cerca rifugio in altre categorie più amorfe nella società quali gli esclusi il sottoproletariato e così via tutte categorie che comunque non hanno un vero potenziale rivoluzionario a causa appunto della loro posizione nei rapporti di classe sotto il capitalismo una naturale conseguenza di ciò comincia a manifestarsi già dal 74 quando il fuori decide di federarsi con il partito radicale e quindi questo segna la rottura definitiva in realtà con il movimento operaio e il passaggio pieno nel campo del riformismo siamo già nel 74 nel giro di qualche anno terminano questi grandi movimenti degli anni 70 l'onda lunga del 68 e così via e questa crisi dei movimenti spontanei investe anche il fuori che poi arriva a sciogliersi nell'82 non prima di due passaggi fondamentali uno è il riposizionamento del fuori stesso da posizioni rivoluzionarie a questioni che potremmo definire più assimilabili ai diritti civili come oggi cioè nell'80 il settimo congresso del fuori assume la rivendicazione del matrimonio egualitario e delle unioni civili perché è un riposizionamento perché prima il fuori criticava l'istituzione del matrimonio cioè diceva voi ci escludete dal matrimonio bene noi critichiamo l'istituzione del matrimonio quindi già questo è un passaggio che segna non un riposizionamento tattico ma proprio un riposizionamento strategico ideologico e l'altro passaggio è la nascita la nascita di di arcighei a seguito del delitto omofobo di jarre dell'80 arcighei che sposa una posizione pienamente riformista e sostanzialmente anche il fuori collocandosi sempre più in questo campo viene viene anche un po' oscurato da questa da questa nuova realtà e si scioglie nell'82 prima di sciogliersi però contro questa decisione anche di federarsi con il partito radicale avevano rotto col fuori Mario Mieli e i collettivi omosessuali milanesi che si rifacevano un po' al suo pensiero Mieli abbiamo visto rappresenta un po' l'ala più di sinistra del fuori quella che non rinuncia alla prospettiva del comunismo e che cerca di mantenere un rapporto anche con una prospettiva rivoluzionaria però anche in questo caso le stranità del movimento operaio l'essere fuori dalla lotta di classe non si scappa produce anche in Mario Mieli un allontanamento da una come dire da una comprensione marxista del problema del problema di genere in elementi di critica omosessuale il suo libro del 77 in cui c'è il Mieli maturo diciamo da questo punto di vista ci sono in realtà diverse intuizioni interessanti per esempio quando Mieli spiega che la violenza omofoba instillata dai padroni dalla borghesia anche nella classe operaia nei poveri negli emarginati un po' come valvola di sfogo per la rabbia verso la loro oppressione all'effetto di spingere poi le persone non eterosessuali fra le braccia dello Stato quindi non c'è le persone LGBT non sentendosi al sicuro nemmeno presso la classe operaia vengono spinte fra le braccia nell'abbraccio mortale in realtà dello Stato e questo perpetua anche un po' lo stereotipo del gay borghese riformista se non addirittura reazionario tuttavia in questo Mieli scorge con grandissima precisione il rischio di cooptazione delle istanze LGBT da parte del capitalismo sostanzialmente Mieli mette in guardia contro il rischio che la borghesia si renda conto della possibilità di mercificare le questioni LGBT in quella che lui chiama l'industria del ghetto l'industria cinematografica editoriale dell'abbigliamento che è quello che oggi noi potremmo definire un po' come l'economia pink il rainbow washing il queer baiting e tutte queste cose qua Mieli dice attenzione perché questa non è una vera liberazione omosessuale questa è una lui la chiama liberalizzazione nel senso di normalizzazione delle questioni omosessuali secondo i canoni i canoni del capitalismo per esempio forse qualcuno ha visto che Gucci nella collezione primavera estate dell'anno prossimo ha fatto anche un capo d'abbigliamento con il simbolo del fuori e qui veramente cioè 40 anni dopo sembra veramente confermare confermare queste questo tipo di analisi non è per questo che abbiamo fatto il seminario lo abbiamo scoperto dopo non ci hanno neanche dato non ci hanno neanche dato delle magliette come gadget per l'autofinanziamento quindi accanto a questi spunti interessanti però ci sono degli altri degli altri elementi che in cui si vede l'influenza di certi di pensatori piccolo-borghesi su 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 mieli come a partire da Freud poi Marcuse Deleuze Gattari e così via e questa influenza si traduce in un'analisi che tende sempre più a vedere il solo aspetto simbolico culturale psicologico dell'oppressione anti-LGBT e a considerarlo anche prioritario rispetto alla realtà materiale quindi la causa principale sarebbe da ritrovarsi nella psicologia nella cultura più che appunto nella realtà materiale e quindi per esempio questo lo diceva molto bene Harry White il marxista inglese omosessuale che negli anni nel 34 scrive la famosa lettera Stalin in cui dice può un omosessuale essere membro del partito comunista Harry White dice molto bene che la causa con una battuta molto efficace dice la causa dell'oppressione omosessuale va a ricercarsi nel fatto che la borghesia ha bisogno di carne da cannone per la produzione e chiaramente rapporti sessuali non produttivi non soddisfano questa esigenza Miele invece in questo libro appunto rimasticando Freud perché questa è una teoria di Freud diciamo sostiene che è la repressione sessuale in realtà essere alla base del capitalismo cioè non è la società divisa in classi che produce repressione sessuale ma è la repressione sessuale che produce il capitalismo perché come dire soffoca le pulsioni erotiche sublimandole nel lavoro produttivo e salariato questa è una teoria di Freud questo è Freud è Freud e Miele accetta in pieno accetta in pieno questa interpretazione che non è solo una questione di lana caprina cioè non è solo una questione di teoria che poi non ha nessun legame con la realtà perché Mieli arriva a dire che nelle donne soggette al potere maschile nei proletari soggetti allo sfruttamento capitalistico nella soggezione degli omosessuali alla norma e in quella dei neri al razzismo dei bianchi si riconoscono i soggetti storici concreti in grado di ribaltare i piani odierni della dialettica sociale sessuale razziale per il conseguimento del regno della libertà non nelle personificazioni della cosa per eccellenza cioè del capitale del fallo noi riconosciamo la soggettività umana bensì nella soggezione di donne omosessuali proletari bambini neri schizofrenici vecchi eccetera al potere che li sfrutta e reprime e questo significa perdersi completamente per strada il soggetto rivoluzionario e di certo in primis la classe operaia ma anche un vero e proprio soggetto rivoluzionario perché stiamo parlando di categorie vecchi bambini schizofrenici che non hanno assolutamente nessun rapporto poi con la lotta non solo con la lotta di classe ma anche con una lotta con una lotta politica quindi insomma in questo senso per tirare tirare le fila di questo il il mancato ripeto il mancato incontro con il movimento operaio e con il marxismo produce anche un un aborto teorico in questo senso e questi sono i limiti i limiti più più rispetto ai quali anche questa elaborazione degli anni 70 non riesce non riesce a uscire però nonostante tutto questo guazzabuglio teorico diciamo il fuori ha dato ha rappresentato sicuramente un esempio concreto delle potenzialità che stanno nel rapporto fra il movimento lgbt e una prospettiva rivoluzionaria e le idee del marxismo anche la crisi del fuori quindi porta a una perdita di tutti questi punti di riferimento che ha fatto fare anche notevoli passi indietro al movimento lgbt anche da un punto di vista teorico in particolare non è un caso che con la perdita appunto del punto di riferimento della lotta di classe della classe operaia al di là del fatto che poi ripeto non abbia portato effettivamente a un rapporto fruttuoso però proprio la perdita di questi punti di riferimento conduce dritto dritto all'avvento poi delle politiche identitarie della identity politics qua mi dispiace che siano andati via tante delle giovani di prima perché questo sarebbe stato interessante però penso sia poi sempre utile ragionarci perché sono posizioni che noi dobbiamo poi combattere all'interno dei movimenti e nei rapporti che abbiamo con le persone che si avvicinano a noi in cerca di risposte rispetto rispetto alle cause anche delle oppressioni sostanza noi sappiamo le politiche identitarie postulano sostanzialmente che noi dovremmo basare il nostro agire politico in base a delle identità che sono definite da tutta una serie di attributi sostanzialmente destoricizzati e queste identità sarebbero ritrovabili in gruppi oppressi quali donne persone non bianche LGBT disabili eccetera eccetera ciascuna delle quali porta avanti una lotta sostanzialmente settorializzata cioè ognuno porta avanti il suo e tutt'al più e questa è un'altra delle parole chiave delle politiche identitarie tutt'al più si possono avere delle alleanze fra tutti questi fra tutti questi gruppi oppressi chiaramente qua si vede la perdita di una prospettiva rivoluzionaria perché manca chiaramente qui la fiducia nella possibilità di sconfiggere il capitalismo e quindi ci si riorienta in qualche modo verso una lotta riformista in ultima analisi che mira a conquistare dei miglioramenti all'interno del sistema vigente ma non mette in discussione il sistema nel suo complesso adesso chiaramente alla base dell'avvento di queste politiche identitarie chiaramente anche qua c'è un'origine materiale ed è da ritrovarsi nella sistematica esclusione di tutte queste categorie dalla storia dai dibattiti in certi casi anche dalle lotte del movimento operaio il che porta in modo quasi naturale da un certo punto di vista a identificarsi con le altre persone che condividono l'oppressione che si sente più come dire che morde di più sulla sulla propria pelle e quindi chiaramente noi dobbiamo dobbiamo riconoscere questa radice materiale dell'avvento di queste idee che noi giudichiamo scorrette per poterle poi per poterle poi criticare allo stesso modo si spiega l'avvento questo su un piano un po' più radicale rispetto all'identity politics ma non meno riformista non meno piccolo borghese non meno antirivoluzionario in questo senso per esempio delle teorie queer che partendo dall'idea che naturalmente noi parliamo di teorie queer e le distinguiamo rispetto alle persone queer perché queer come aggettivo delle persone è un po' come dire è un'idea di non conformità a determinati canoni queer trae origine dall'offesa che veniva rivolta alle persone non eterosessuali vuol dire bizzarro quindi anche qua è stata una riappropriazione un po' come è stata una riappropriazione gay e altri termini simili tra l'altro oggi su un piano oggi queer viene anche usato rispetto a un'idea di gay ossificata e che quindi che risponde a certi canoni anche estetici di comportamento e così via però le teorie queer insomma allo stesso modo partono hanno come radice materiale la 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 necessità di comprendere di criticare un'oppressione che si basa in prima analisi sui ruoli di genere e però spostano perdendo come dire l'appiglio con le cause materiali di questa oppressione spostano tutto sul piano simbolico sul piano culturale quindi anche lì l'oppressione sarebbe determinata sarebbe la conseguenza di determinate caratteristiche psicologiche che si sono venute a formare attraverso la cultura eccetera eccetera e che quindi devono essere cambiate con una lotta che si basa esclusivamente su cambiamenti del linguaggio su azioni performative che però non vanno ad aggredire le come dire i rapporti sociali materiali rapporti di classe ci si potrebbe chiedere ma se queste premesse sono sbagliate come è stato possibile che si siano conquistate si siano raggiunte conquiste come le unioni civili e così via o maggiori visibilità e qua noi dobbiamo rispondere che da una parte queste sono conquiste che non sono state regalate ma sono state ottenute grazie alla crescita di movimenti di massa che hanno lottato per ottenere per ottenere queste conquiste che però restano assolutamente parziali e perché restano parziali? perché c'è stato un tentativo da parte della borghesia e dei suoi partiti di cooptare queste lotte sia su un piano politico per in qualche modo conquistare l'appoggio delle direzioni moderate del movimento LGBT in cambio appunto di questi contentini e dall'altra anche del capitalismo stesso perché chiaramente adesso abbiamo tutte queste tutte queste aziende queste pubblicità diciamo gay friendly che come dire sfruttano questo cambiamento positivo nella coscienza delle masse dei giovani questa questa insofferenza verso le oppressioni e così via per fini di marketing senza poi andare a 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 poi��요 interno ci sono aziende con le pubblicità iper gay friendly da cui poi arrivano storie di discriminazioni verso i lavoratori da parte dell'azienda che insomma danno l'esempio di tutta questa ipocrisia Ora noi diciamo forse che allora non è importante che si cambia anche il modo in cui si parla delle persone LGBT, riteniamo che non sia importante promuovere percorsi di educazione nelle scuole, che non sia importante fare azioni diciamo anche più culturali di lotta ai pregiudizi. Chiaramente questo non lo diciamo, chiaramente queste sono iniziative importanti, ma le dobbiamo inserire in una prospettiva di lotta più complessiva contro il capitalismo, perché questo è l'unico modo in cui poi queste lotte anche contro le discriminazioni di genere possono diventare veramente efficaci. Anche perché l'aggravarsi della crisi del capitalismo, il crollo del potere d'acquisto, il crollo dei diritti e delle tutele andrà a colpire anche tutte le persone LGBT che appartengono alla classe lavoratrice, impedendo loro per via di questo impoverimento, di questo aggravamento delle loro condizioni materiali, poi anche di godere di tutti questi diritti civili o di quant'altro i diritti civili si possano conquistare. Quindi le due lotte devono necessariamente andare di pari passo, non possono essere separate e noi dobbiamo assolutamente impedire, noi ci rifiutiamo che da parte di forze riformiste, borghesi e ipocrite come il PD, noi ci rifiutiamo di permettere loro di intestarsi questa battaglia, perché questa non è una battaglia del riformismo. Questa è una battaglia che appartiene alla lotta di classe. Ora, vado verso la conclusione e io credo che adesso stiamo registrando sia nei contatti che abbiamo, nei documenti dei Pride, in generale dal sentore che riceviamo dalla società, che appunto la crisi del capitalismo e la crisi anche del riformismo sta portando sempre più persone a riconoscere anche i limiti di queste politiche identitarie, perché è la realtà stessa che in questo contesto costringe a porsi la questione del sistema economico nel suo complesso, a non accontentarsi diciamo di conquiste come i diritti civili separati da quelli sociali. E quindi questo è un cambiamento di prospettiva che stiamo cominciando a registrare, molto positivo, ma proprio per questo vale la pena un attimo di soffermarsi sulla questione dell'intersezionalità e dell'intersezionalismo che è un po' la forma che assume questa critica spontanea verso i limiti delle politiche identitarie a livello giovanile. Perché l'intersezionalità è proprio uno di quei casi in cui una parola assume a livello di massa un significato anche molto diverso da quello che ha su un piano teorico più rigoroso. Cioè oggi l'intersezionalità viene letta anche da tanti compagni impegnati nei movimenti come proprio la soluzione ai problemi delle politiche identitarie. Cioè le politiche identitarie vedono solo un'identità, la donna, omosessuale, transessuale, nero, eccetera, eccetera. Invece noi dobbiamo appunto renderci conto che invece queste oppressioni si intersezionano ad altre oppressioni, in primo luogo quella di classe. Quindi questa a mio parere è quello che sta portando a livello di massa, a livello spontaneo, a identificarsi con l'intersezionalità. Questa necessità di rimettere la classe al centro del discorso, anche criticando il femminismo borghese alla Hillary Clinton, Kamala Harris e così via. E quindi questo di per sé è positivo. Però noi chiaramente da marxisti dobbiamo avere un approccio scientifico anche alle parole e andare a scavare le teorie che le promuovono. E in particolare noi non possiamo ignorare che chi teorizza l'intersezionalità in realtà non offre una soluzione ai problemi delle politiche identitarie, ma porta queste politiche identitarie a un livello ancora più alto. Nel senso che l'idea è che comunque non ci sia il terreno per una lotta unitaria perché alla fine ogni individuo, neanche ogni categoria, ma ogni individuo ha un'identità segnata da tutta una serie di oppressioni che però saranno sempre diverse da quelle di un altro individuo. E quindi qua viene a mancare il terreno per una lotta unitaria. Questo non lo diciamo noi che siamo così fissati con le teorie dell'Ottocento, ma lo dice Patricia Hill Collins, che è una delle teoriche dell'intersezionalità, la quale dice Cioè non esiste centralità per nessuno, neanche per la classe, che noi invece giudichiamo assolutamente imprescindibile. Questa del privilegio è probabilmente la nozione più insidiosa di questa corrente di pensiero. Noi dobbiamo veramente discuterla e soffermarci su questa, perché secondo l'intersezionalismo chi non subisce una certa forma di oppressione ne è automaticamente complice. Quindi, per esempio, un operaio bianco etero sarà oppresso in quanto operaio, ma privilegiato e quindi oppressore in quanto bianco ed etero e così via. Poi ci sono tutti gli incroci che possiamo fare. Noi naturalmente non ignoriamo che ci sono delle stratificazioni nell'oppressione. Non ignoriamo che l'operaio bianco etero ha una vita molto più facile se non deve rinnovare continuamente il permesso di soggiorno perché sennò viene cacciato via. Non ignoriamo che l'operaio bianco etero non rischia di essere massacrato di botte per strada se va in giro con la propria compagna. Non lo ignoravano nemmeno i nostri classici. Engels usa una metafora molto efficace quando parla della famiglia in cui dice l'uomo è il borghese, la donna è l'operaio, è il proletario. Ma il punto è che per noi questi intanto non sono privilegi ma sono delle condizioni minime di esistenza che noi dobbiamo conquistare per tutti e quindi non instillare un senso di colpa in chi ha questi che vengono considerati determinati privilegi. Ma poi appunto riagganciandoci a Engels, Engels diceva appunto che l'uomo, nella famiglia l'uomo è il borghese, la donna è il proletario. Non è che ne deduceva che allora l'uomo è l'oppressore, lo sfruttatore da combattere in quanto categoria. Ne deduceva che andava scardinato, va scardinato, il sistema nel suo complesso di cui la famiglia non è altro che l'unità di base, l'unità cellulare di base. Sì, vado verso la fine. E invece secondo questi teorici dell'intersezionalità il privilegio implica che chi non è vittima di un'impressione ha interesse a mantenerla. E questo è quello che noi respingiamo, che secondo noi è falso, perché il vero privilegio è quello di classe. Perché è la condizione di classe che determina chi, in ultima analisi, governa la società, chi può arricchirsi del plus valore estratto dallo sfruttamento del lavoro, grazie alla proprietà dei mezzi di produzione. Prendiamo per esempio, prendiamo un altro privilegio rispetto a questo, la differenza salariale fra uomini e donne. Fra operai e operai, per focalizzarlo il più possibile, chi guadagna da questa differenza salariale? Ha da guadagnarne l'uomo che comunque, l'uomo in quanto tale, che comunque riceve un salario da fame in ogni caso? E il fatto che ci sia chi riceve meno di lui può essere usato come arma di ricatto, anche per abbassare il suo salario, per peggiorare le sue condizioni di vita e di lavoro? O ne guadagna il padrone che quindi tiene, diciamo, ha una fetta più grande di plus valore dallo sfruttamento del lavoro? Quindi la soluzione non può essere accusare questi privilegi, quanto abolire il sistema che suddivide i lavoratori secondo tutti questi strati diversi di oppressioni, per tenerli poi divisi a litigarsi le briciole. Chiaramente questa è una campagna che va fatta anche all'interno del movimento operaio, perché la negazione dei diritti di qualcuno è la negazione dei diritti di tutti. Una dimostrazione evidente, qua vado a concludere, delle ricadute pratiche dell'intersezionalismo l'abbiamo avuta alla recente manifestazione della GKN, Convergere per insorgere, alla quale abbiamo comunque partecipato per dare il nostro contributo al dibattito. Per esempio, in tutti i documenti che abbiamo visto associati a questa manifestazione, che hanno portato a questa manifestazione, tra questi documenti ce n'era anche uno, pubblicato il 19 agosto, cofirmato dal collettivo di fabbriche, dagli stati generali LGBTQIA+, e disability, dove vengono, e questo per noi è positivo, vengono messi sullo stesso piano i diritti sociali e i diritti civili. Però si ribadisce questa idea che le lotte devono avanzare separatamente, in parallelo le une alle altre, e senza un programma comune che identifichi la forza che è veramente in grado di cambiare la società e che identifichi, che si ponga come obiettivo quello di espropriare la classe dominante. Se noi non ci poniamo questo obiettivo, possiamo avere anche gli slogan più roboanti, più rivoluzionari, le fraseologie più belle, ma non si va da nessuna parte. E quindi questa è la proposta che facciamo anche noi al movimento LGBT in questa fase di crisi del capitalismo, di risveglio rivoluzionario e di attacchi reazionari. L'esperienza storica del movimento, che oggi abbiamo provato a inquadrare, secondo una prospettiva marxista, dimostra che c'è un grande potenziale nel suo incontro con la classe lavoratrice. E in questo senso la bancarotta dello stalinismo toglie di mezzo un grosso ostacolo affinché questo incontro oggi si possa veramente concretizzare. E come militanti della tendenza marxista internazionale, come rivoluzionari e rivoluzionari LGBT, come marxiste e marxisti, il nostro compito è assimilare gli insegnamenti che ci arrivano da questa storia e mettere a frutto oggi la lotta per legare la lotta contro l'oppressione sessuale di genere e omo bitransfobica alla guerra di classe e alle idee rivoluzionari. Allora, intanto credo che a Modena, inteso proprio come sezione, perché l'unica volta è successo durante una festa rossa in cui però la maggior parte di noi era impegnato a lavorare e andiamo anche un po' indietro con gli anni e molti compagni che oggi ci sono non c'erano, forse è la prima volta che facciamo una discussione specifica sulle lotte del movimento antagonista gay e poi oggi anche su quello che sono le posizioni all'interno dominanti, diciamo, all'interno del movimento LGBT. E questo secondo me ci dice intanto della capacità della nostra organizzazione di essere integrati tra la classe, tra i giovani e di come ci diceva Fede, oggi questi sono temi estremamente sentiti soprattutto dalle nuove generazioni, ma non solo, e che hanno un potenziale rivoluzionario dirompente per le ragioni che abbiamo già spiegato. E anche una vecchia organizzazione marxista come la nostra, che però sta reclutando tanti giovani, ha la capacità di approfondire anche dal punto di vista teorico il nostro dibattito. Non possiamo rimanere solo all'origine della famiglia di Marx ed Engels, piuttosto che a rivoluzione vita quotidiana di Trotsky, che se da un lato ci danno le basi non hanno avuto, non hanno vissuto gli anni 70 e non vivono oggi, non sono qui per poter appunto esprimere la loro posizione su quello che sta avvenendo. Per cui è importante che anche al nostro interno abbiamo i compagni che più di altri sicuramente lavorano da questo punto di vista per elaborare le nostre teorie, per scrivere articoli che anche su questi temi entrino appunto in parte, anche in contrapposizione, con le direzioni tendenzialmente piccolo-borghesi, che spesso prendono la direzione di questi movimenti, anche nelle sue forme più radicali. Non è un caso, perché è chiaro che all'interno del proletariato e della classe lavoratrice è più difficile avere accesso a un'istruzione, a un livello culturale che poi ti permette anche di giocare un ruolo intellettuale, dirigente, all'interno di un movimento. Questo è un grosso problema che storicamente avrà sempre la classe operaia. Anche al nostro interno a volte non è facile avere i compagni operai che magari fanno delle relazioni o scrivono degli articoli, perché è chiaro che quando sei oppresso otto ore al giorno in una fabbrica, in un ufficio, in quello che è, poi dopo hai meno tempo per poter leggere, per istruirti e per riuscire. E quindi da questo punto di vista credo che la nostra organizzazione però da sempre produca un enorme sforzo in questo senso. Secondo me i dibattiti di questi giorni lo testimoniano, anche se i due relatori di oggi effettivamente non sono due operai, però questo non ha impedito a tanti di noi comunque di fare degli interventi e di intervenire nei movimenti portando le posizioni marxiste. E da questo punto di vista Fede poneva anche un po' l'attenzione su quello che sono le tendenze ultime legate principalmente all'intersezionalismo e se da un lato lui diceva la percezione che c'è in molti giovani è quella di dire stiamo unendo in realtà le varie situazioni di oppressi e di lotte e la realtà è che invece che unirle poi come vediamo tendenzialmente le dividono attraverso quale strumento? La vecchia e classica teoria piccolo-borghese che l'oppressione di classe è solo una delle tante oppressioni al pari di tutte le altre. Ma non è che a noi gli operai e i lavoratori ci stanno più simpatici e per cui pensiamo che sia l'oppressione più importante no è appunto il loro ruolo produttivo all'interno della società il fatto che continuino ad essere coloro da cui la borghesia estrae il plus valore e accresce i propri profitti in forme che si sono sicuramente volute nel corso degli anni ma che non hanno cambiato la sostanza e per cui anche quello che ci siamo detti prima da un lato l'istituzione della famiglia l'eterosessualità e il patriarcato sono strumenti fondamentali ancora oggi per il capitalismo per continuare a mantenere il suo dominio sulla classe oppressa e però il soggetto rivoluzionario rimane uno ed uno solo quello in grado di mettere in crisi il capitalismo attraverso una rivoluzione ed è la classe lavoratrice è evidente che poi la classe lavoratrice è attraversata da altre mille forme di oppressione che hanno appunto la necessità forse lo diceva Onza anche nella discussione di prima nel suo intervento di unirsi al proletariato riconoscendo in esso appunto il motore del cambiamento l'unico in grado appunto di spezzare le catene proprio andando a fare che cosa? a togliere le basi economiche e politiche della classe dominante espropriando il grande capitale nazionalizzando alla fine nelle leve fondamentali dell'economia e mettendole nelle mani del proletariato che sono risorse fondamentali per liberare la donna per liberare sicuramente tutte quelle persone che non si riconoscono magari appunto in un genere definito non hanno un orientamento sessuale che è quello etero da questo punto di vista e però se non hai le basi materiali come già ci siamo detti per poter garantire la piena libertà e lo sviluppo di una società anche culturalmente progredita appunto perché è vero che l'omofobia è sicuramente penetrata anche all'interno della classe operaia tuttora oggi cioè tante volte ci troviamo a lottare nelle fabbriche dove siamo nelle aziende con lavoratori che sono pieni di pregiudizi contro le donne di pregiudizi contro le persone LGBT questo non ci deve impedire di lottare al loro fianco spiegandogli che al loro fianco troveranno le donne e troveranno le persone LGBT a sostenere le loro istanze e che quindi sono loro i naturali alleati appunto e il pregiudizio è solo un'arma della borghesia per dividere fondamentalmente il proletariato invece che unirlo su basi di classe nei nostri documenti spesso citiamo un film che trae diciamo origine da fatti realmente accaduti che è Pride che effettivamente è un film molto bello che racconta la storia in Inghilterra durante il periodo taceriano e le lotte dei minatori c'è questo compagno Ashton non mi ricordo più il nome Michael Mark Ashton che è un militante comunista e omosessuale e che appunto spinge in una direzione marxista il movimento omosessuale cercando una convergenza direbbero oggi quelli della GKN con il movimento dei minatori e riesce seppur con qualche ostacolo a far capire ai minatori che appunto loro sono i loro fratelli di classe in quanto omosessuali proletari e oppressi e raccogliendo dei fondi per aiutare la cassa di resistenza dei minatori che fecero appunto uno sciopero di un anno riescono appunto a far sì che poi i minatori mandino una grossa delegazione al Pride e ci sono anche le immagini storiche molto commoventi di questo incrocio tra queste due realtà di lotta e i minatori si cominciano anche a porre l'obiettivo di inserire nei loro statuti la lotta agli atteggiamenti omofobi all'interno del sindacato che di sicuro non mancavano all'epoca all'interno di una categoria come i minatori anche Trotsky in Rivoluzione Vita Quotidiana parla in realtà della grossissima omofobia che figuriamoci nel 1917 era presenza tra le classi oppresse attraverso un linguaggio macista violento dove appunto gli uomini spesso trovavano come si è detto nella famiglia la valvola di sfogo per cui la violenza il picchiare le donne anche sotto l'effetto dell'alcol o prenderle a cattive parole maltrattarle anche da un punto di vista verbale era il principale sfogo e non è che con la rivoluzione con un colpo di spugna cancelli questi problemi e nel libro proprio si affronta questo tema perché appunto come si diceva prima la morale e la cultura al contrario di quello che spesso anche i riformisti di sinistra sostengono resta più indietro rispetto alle conquiste quante volte oggi ci sentiamo dire è impossibile una rivoluzione finché la cultura dominante sarà questa finché non cambiamo la testa delle persone è l'esatto contrario senza una rivoluzione socialista è impossibile cambiare in profondità la testa delle persone e durante una rivoluzione peraltro non è che non succeda niente anzi succede nella testa di milioni di proletari quello che magari non è successo in 50 anni e più che non è sufficiente che è solo un inizio però appunto è in realtà un atto estremamente liberatorio e progressista anche da questo punto di vista dico un'ultimissima cosa su un'altra concezione assolutamente piccolo borghese contro cui per anni ci siamo trovati a lottare sicuramente in rifondazione comunista ma che oggi in realtà ha contagiato anche il femminismo liberale e il non femminismo ma semplicemente le posizioni borghesi che sono ad esempio pensare che uno dei problemi dell'oppressione della donna può essere risolto attraverso e anche di tante minoranze oppresse il meccanismo delle quote per cui inseriamo una quantità di rappresentanza obbligatoria dentro ai partiti nei gruppi dirigenti dei partiti nei consigli di amministrazione di una fabbrica ora noi nella nostra organizzazione abbiamo sempre rifiutato ad esempio di utilizzare come strumento per emancipare le compagne non so obbligare il nostro CC o il nostro CEN ad avere il 50% di compagne al loro interno allora perché no il 30% di omosessuali il 20% di lesbiche cioè dopo di 20% ma perché intanto è svilente verso la persona perché tu un ruolo di un certo tipo te lo conquisti è grazie alle tue capacità poi è vero non neghiamo il problema che in particolare la donna fatica molto di più di un uomo a darsi alla militanza politica per le ragioni però che abbiamo detto prima perché ha molto meno tempo libero di un uomo banalmente in quanto molto spesso è oppressa dentro alle mura domestiche e ha molti meno strumenti anche e tempo libero per poter leggere poter elevare il suo livello è evidente che le giovani generazioni però stanno un po' invertendo la rotta non perché voglio dare una visione del progresso c'è esatto o anche che anche sotto il capitalismo comunque il progresso non si arresta per cui avremo sempre no non è vero si può anche tornare indietro in alcuni casi però sicuramente la società non è che rimane immutata e il fatto che tra i giovani oggi questo dibattito sia molto forte non è un caso che nel collettivo studentesco che i nostri studenti stanno tenendo in piedi la stragrande maggioranza siano donne questo insomma è un elemento sicuramente per il nostro gruppo di novità e quindi in questo senso sarà determinante secondo me anche per la futura elaborazione teorica e appunto per far sì che il marxismo faccia degli ulteriori passi in avanti per collegare l'oppressione di genere alla lotta di liberazione dell'umanità dal gioco del capitalismo nessuno si è segnato però Franci vai allora l'ottima veramente reazione di Federico visto che ha messo ha detto tante cose ha messo tante carne al fuoco rispetto alla questione del ruolo del partito comunista italiano del PC in queste vicende ha detto come dire che è un ruolo che è stato nefasto che deriva dallo stalinismo e poi giustamente si è spinto sugli aspetti appunto della relazione che erano più anche che insomma avevamo deciso di mettere in risalto per questo mi soffermo un attimo perché comunque è un tema che ha quello appunto del ruolo divisivo che gioca il PC sin dagli anni 40 sul tema più generale della famiglia beh c'è da dire c'è da dire veramente tanto perché da un lato lo dicevamo prima il PC italiano viene stalinizzato negli anni 30 nel 30 se proprio dovessimo identificare un anno e quindi dopo assorbe come linea politica ciò che viene dalla mosca che appunto non è più quella di di Lenin e che cosa arriva rispetto alla questione dell'omosessualità per esempio scrittori ufficiali sovietici degli anni 30 parlano dell'omosessualità come una cito degenerazione della borghesia fascista ne ha discussione precedente Alessandro aveva già fatto un riferimento a questo anche uno scrittore che alcuni compagni forse conosceranno che è Maxim Gorky partecipa a questa campagna piuttosto ignobile un giornalista della Pravda che poi sarà anche reporter di guerra in Spagna amica il Colsoff scrive che scrive delle cito orge omosessuali nei paesi fascisti c'è proprio una massa di propaganda che va in questa direzione in cui l'urso si presenta come il paese sano virile dove ci sono gli alti tassi di natalità e badate bene questa propaganda starinista degli anni 30 assomiglia maledettamente alla propaganda dei paesi fascisti su questo su questo terreno non bisogna mica avere tante esitazioni nel dirlo perché è esattamente così e la per esempio nel si trovano delle cose in vere conde nel quotidiano del partito comunista francese nel 35 leggiamo salviamo la famiglia il 17 novembre ha aiutatoci nella nostra grande inchiesta nell'interesse del diritto all'amore ma che cos'è il diritto all'amore lo si capisce subito dopo si sa che in Francia il tasso di natalità sta decrescendo di nuovo la questione del sostenere la patria e quindi della donna vista come come uno strumento una macchina per fare figli sotto sottolineato i comunisti vogliono lottare per difendere la famiglia francese c'è un misto di orrori in questo anche nazionalismo perché si accompagna anche il nazionalismo a questa virata reazionaria su tutte le questioni dei valori e poi quest'articolo appunto era molto importante il partito comunista francese negli anni 30 uno dei più grossi fuori dall'unione sovietica si chiude dicendo l'URSS indica la via e bisogna allora però bisogna adottare immediatamente mezzi efficaci per salvare la razza questo è nell'Humanité quotidiano del partito comunista francese numero del 31 ottobre 1935 bene cosa si aggiunge nel PC successivamente dopo il 43 si aggiunge una esigenza politica strategica per quel gruppo dirigente che ormai è comunista di nome ma sappiamo riformista nei fatti si aggiunge che il partito che in Italia diventa il rappresentante della politico della borghesia della classe dominante per ragioni storiche è la democrazia cristiana quindi nei governi di unità nazionale del 44 47 ma anche quando Berlinguer fa il compromesso storico negli anni 70 il PC come esprime il suo adattamento al sistema capitalistico alleandosi con la democrazia cristiana e allora c'è ancora di più il bisogno di non dire nulla che possa alienare l'avvicinamento e l'alleanza con la democrazia cristiana e la famiglia la questione omosessuale sono tutti dei terreni prediletti perché il partito radicale in questo paese a un certo punto è sembrato a molti di un partito di sinistra addirittura di estrema sinistra c'è un amico di mio padre che era un anarchico negli anni 70 non votava c'è il permesso di c'è una causa per l'assegnazione del figlio e concorda con mio padre dire vabbè se questa volta voti perché all'epoca si apparivano le liste di chi non votava siamo durante il processo vedi tu lui alla fine vota cosa decide di votare partito radicale come moltissimi di estrema sinistra di alcuni anni che sono un po' appunto confusi da questa faccenda dei diritti della lotta per i diritti civili perché effettivamente il PC non ha voluto nessuna delle lotte di massa che hanno portato né alla legge sul divorzio né a quella sull'aborto è stato un movimento di massa che ha forzato delle trattative parlamentari che il PC faceva con la democrazia cristiana e che chissà cosa avrebbero portato senz'altro delle leggi molto più scarse di quelle che abbiamo se se avesse portato a delle leggi perché non è affatto detto quindi quel partito i gruppi dirigenti naturalmente che noi distinguiamo dalla base dai quadri anche più di base dei locali di quei partiti i gruppi dirigenti nazionali hanno subordinato quella faccenda all'alleanza con la democrazia cristiana come tante altre cose mantenendo anche una certa ipocrisia sulla famiglia perché mentre si predicava astinenza come dire sospetto verso il piacere per gli altri tutti i dirigenti principali del partito comunista italiano stalinizzato a partire da Togliati proseguendo con Luigi Longo e gli altri si fanno poi tutta la seconda la terza moglie prendendo prendendo la militante come dire abbandonando la moglie che era stata anche una compagna di lotte per dei decenni e dunque il matrimonio deve essere indissolubile per gli altri quindi e viene coperta questa grande ipocrisia all'interno del gruppo dirigente del PC quindi insomma che ci sia stato con queste premesse è chiaro che essendo la forza dirigente principale del movimento operario italiano così l'esito che ha descritto Federico era difficile che fosse un altro l'esito date le forze soggettive in campo Luca si esatto ok vabbè no alla fine no ma alla fine va bene perché molte cose sono già state dette però ho guardato ho visto un film in realtà non avevo voglia di leggere tutti i materiali preparatori quindi sono andato a vedere il film su Mario Mieli Anni Amari rende un po' l'idea del periodo in cui siamo soprattutto in Italia soprattutto per la borghesia il suo pensiero perché parte da idea anche buone cioè fa vedere anche un po' di lotta di classe il suo pensiero però alla fine tende a ridurre tutto all'aspetto psicologico che è quello di cui parlava Federico prima questo aspetto psicologico per cui i suoi problemi con i genitori con la madre era ricco e si sentiva in colpa però poi non vanno a fondo nel suo nel suo pensiero che invece secondo me era molto importante cioè da farlo vedere perché fa vedere il suo approccio verso il marxismo la sua idea di dover andare in mezzo agli operai in realtà un po' il film questo dà un'idea un po' anche di quello che parlava prima Francesco sullo stalinismo e sul partito comunista in realtà non succedeva solo nel partito comunista ma anche nei gruppi extraparlamentari e succede ancora in certi gruppi dove l'omosessualità è una distorsione piccolo borghese tipica della borghesia quindi di fatto quando ci sarà il socialismo è un problema che non si porrà più perché è un problema del capitalismo e se tu sei omosessuale tendenzialmente non puoi essere rivoluzionario questa è un'idea che cioè questo è un'idea che fa vedere il film secondo me anche abbastanza correttamente forse anche un po' per demoralizzare e abbassare gli animi fa vedere i mieli che va verso i lavoratori e gli lavoratori non è che lo trattino proprio benissimo e perché dico tutto questo perché appunto come diceva la Simo prima secondo me è importante da vedere cioè i movimenti ci sono sempre di più di liberazione non solo omosessuali ma diritti civili in generale ed è anche corretto che ci siano nel 2022 ci mancherebbe la borghesia del potenziale che possono avere questi movimenti è chiaro che ne ha spaventata ne ha spaventata oggi come ne era spaventata negli anni 60 con i diritti civili e non per niente che fanno i democratici negli Stati Uniti introducono le quote prima per le persone di colore e poi per le donne e cercano in questo modo di far vedere che comunque la borghesia è aperta e ancora progressista nonostante il suo nonostante il suo sistema stia crollando e sia in una crisi in una crisi dietro l'altra e anche l'intersezionalismo è funzionale esattamente proprio a questa cosa cioè cercare di anacquare qualsiasi idea e far vedere che sotto al capitalismo ugualmente si può raggiungere una certa libertà si può superare i problemi del razzismo si può superare i problemi di genere semplicemente servono a questo teorie dell'intersezionalismo la teoria queer tutte queste idee che vengono portate avanti prima parlavo del postmodernismo non sono molto diverse non sono molto diverse da questo e adesso abbiamo il governo Meloni sappiamo benissimo dove andrà a parare questo secondo me sarebbe importante da dire perché mi sembra che correggetemi se sbaglio ma durante il fascismo gli omosessuali erano mandati al confino quindi non è vero che si parla solo delle politiche razziali del fascismo ma in realtà ne fece tante altre l'attacco ai laboratori attacca gli omosessuali e non abbiamo dubbi che la Meloni andrà in questa direzione anche perché ultimamente leggevo su diversi giornali siti pseudo progressisti che c'è questa la borghesia italiana abbastanza spaventata dal calo demografico hanno fatto qualche calcolo e dicono no però potrebbe essere una tragedia per il nostro sistema produttivo e quindi credo che sia veramente poco funzionale l'omosessualità da questo punto di vista e non lo possiamo negare e che quindi in certe idee da un lato cercheranno di dire no ma noi le accettiamo e dall'altro invece continueranno a fare come al solito e secondo me su questo rimane valido quello che disse Malcolm X sul razzismo cioè finché ci sarà capitalismo c'è razzismo e lo stesso vale per l'omosessualità e l'oppressione della donna io volevo fare solamente una domanda Federico ha fatto riferimento più volte nel suo intervento a come l'atteggiamento dello stalinismo allontanò la volontà di un settore significativo a parte dallo stesso Miele di avvicinarsi al movimento operato Francesco nel suo intervento successivamente ha approfondito il rapporto con il partito comunista italiano peraltro mi risulta che in un discorso del 79 Berlinduer fece un'apertura al movimento omosessuale mettendolo nel caso dell'ordine generale degli emarginati ma anche anche un po' da la linea volevo chiedere invece visto che su altri temi questa reluttanza da parte del partito comunista italiano ad accogliere queste tematiche che omelgevano questo spirito rivoluzionario si era espressa nei gruppi della cosiddetta nuova sinistra volevo capire se appunto si è aperto all'interno del fuori attorno al fuori un dibattito che fosse in grado di guardare al movimento operaio e le sue forme diciamo che almeno sul piano verbale programmatico erano quelle più radicali anche se poi sappiamo che avevano una parola massa e il movimento operaio che è quello che le ha limitate fortemente anche se molte di queste erano anche loro segnate allo stalinismo e quindi forse su questo federico magari può dare le risposte questo rapporto può essere stata compromesso anche in quel caso con le impostazioni di oggi io compagno se non ci sono altri interventi anche per l'orario darei la parola a Federico allora in realtà la domanda di Jaco mi dai là per introdurre queste conclusioni con uno dei due punti che avrei voluto affrontare ossia appunto si parlava dei del ruolo del pc e così via è interessante che nonostante tutte queste difficoltà che c'erano nel realizzare un incontro fra movimento omosessuale movimento operaio sinistra in generale nel fuori io sospetto per in particolare per spinta pressione dell'ala più di sinistra ci sono due esempi interessanti intanto le interviste agli operai cioè sul fuori compaiono tutta una serie di interviste a operai gay che non si limitano a fare delle domande ma come vivi ma ti trattano bene ti trattano male ma sono delle vere proprie conversazioni da cui emergono due cose la prima è che sì effettivamente la fabbrica è un luogo asfissiante da questo punto di vista dove ci sono dei pregiudizi pesantissimi dall'altro che come spesso accade tutti questi pregiudizi saltano nel momento in cui ci sono delle vertenze delle lotte che portano gli operai a battersi per un obiettivo comune in particolare c'è un'intervista molto interessante a un operaio che dice proprio questo sì appunto mi trattano malissimo sto malissimo poi si mettono a parlare di uno sciopero o di un'altra di un'altra battaglia io non ricordo con precisione però poi questo dice eh no lì diventavo quasi un punto di riferimento quindi è interessante che comunque si mantiene aperto questo dialogo e questo si esprime anche nella ricerca di un dibattito con le organizzazioni della sinistra fuori dal pc a cui in realtà non rispondono in molti tutta la galassia ML è incrostata di questi di questi pregiudizi mi pare di ricordare che addirittura il manifesto qua non ci metterei la mano sul fuoco però mi pare di aver letto che addirittura il manifesto il fuori all'atto della sua fondazione manda una sottoscrizione al manifesto si firma come fronte unitario omosessuale rivoluzionario il manifesto censura omosessuale no? in questo messaggio però le uniche due forze questo è interessante le uniche due forze che rispondono a questa richiesta di dibattito con cui avviene proprio un dibattito cioè intendo una discussione che poi viene stampata i verbali di queste discussioni vengono stampate sul fuori e che scaturisce dalla discussione su Cuba come dicevo Cuba è un po' l'elemento divisivo per eccellenza anche perché viene pubblicato vengono pubblicati sul fuori gli atti di un congresso anche lì di sessuologia che si svolge all'Havana che appunto prende posizioni fermamente anti-omosessuali quindi parte tutta questa discussione su Cuba gli unici due gruppi che rispondono sono lotta continua e l'allora quarta internazionale e quindi c'è questa discussione tra il fuori e queste due organizzazioni e come come si secondo me è un dibattito interessante anche nella sua inconcludenza in realtà nel senso che si coglie perfettamente che anche da parte di queste organizzazioni che rispondono cioè di lotta continua dell'allora quarta internazionale manca un'elaborazione teorica alle spalle in grado di rispondere a certi quesiti a certe esigenze che vengono sollevati quindi anche questo è interessante per cui non c'è per fortuna anche una totale incomunicabilità anche all'interno della classe non solo con le organizzazioni di sinistra fuori dal pc però sì cioè manca alle spalle questa elaborazione che sarebbe stata necessaria poi per rispondere o per criticare anche determinate posizioni che venivano espresse poi all'interno all'interno del fuori in questi in questi dibatti l'altra cosa però e si lega a questa che volevo dire è che dunque abbiamo appunto si diceva qua mancava questa elaborazione teorica diceva prima anche Simona che naturalmente né Marx né Engels Lenino Trotsky sono vissuti negli anni 60 vivono oggi e quindi c'è bisogno anche di un'elaborazione teorica a cui sicuramente i giovani compagni e compagni daranno un contributo però anche su questo quello che secondo me è importante sottolineare dopo che abbiamo detto tante cose sui limiti a usare un eufemismo per le organizzazioni staliniste però insomma ci siamo capiti una cosa che è importante sottolineare è che noi anche da questo punto di vista il marxismo ha una bandiera pulita nel senso che prima dell'involuzione stalinista anche questa è una cosa che secondo me dobbiamo dire che poi ci viene a dire il peccato originale dell'omofobia in realtà anche in tempi non sospetti le organizzazioni che si rifacevano al marxismo prima degli anni 30 e anche questa è una cosa molto dimenticata ma che andrebbe riportata a galla partecipavano a queste battaglie per mettere fine alle oppressioni di genere anche contro l'omosessualità cito solo due casi il primo è quello della Russia sovietica Francesco prima nella relazione ha specificato che e anche altri interventi dopo hanno specificato che è stupido quello che dicono per cui in realtà i bolshevichi si sono abolendo il codice penale è stata per una svista che hanno tolto che hanno depenalizzato l'omosessualità ma in realtà non la volevano depenalizzare davvero è stato un caso in realtà è falso perché se si va a vedere i dibattiti dell'epoca per esempio il famoso intervento di Batkis sulla rivoluzione sessuale in Russia lì proprio si teorizza la questione della lotta all'oppressione contro gli omosessuali dicendo che non solo allora si parlava di omosessualità sodomia e altre forme di piacere sessuali hanno lo stesso status giuridico ma oltre allo stesso status giuridico si specifica che da un punto di vista marxista non c'è differenza rispetto agli altri rapporti considerati naturali quindi c'è proprio una teorizzazione in questo senso questo sulla Russia sulla Russia sovietica e poi altrimenti non si spiegherebbe neanche la sorpresa di certi comunisti come Harry White che citavamo prima che quando Stalin ripenalizza l'omosessualità gli dicono sostanzialmente cosa stai facendo perché per come fino a ora questo non si poneva e la cosa interessante della lettera di White secondo me è anche che lui cita diverse sue conversazioni con i membri della politica della GPU loro stessi gli dicono ma che strano ma lui dice ma io potrei essere arrestato per questa cosa ma secondo me no eccetera eccetera e sappiamo che Stalin invece commenterà questa lettera dicendo questo è un idiota un pervertito questo è il caso della Russia sovietica ma prendiamo anche il caso della Germania in Germania c'era era attivo un movimento diretto da tale Hirschfeld che si batteva per l'abolizione del paragrafo 175 del codice penale che appunto criminalizzava gli atti sessuali fra io ho sempre letto fra uomini poi non so se si parlava di persone dello stesso sesso ma non mi stupirei nemmeno se si parlasse solo tra uomini perché poi le donne sempre lasciate da parte anche nella criminalizzazione in questo caso però appunto c'era questa campagna questa campagna andava avanti sin dagli ultimi anni dell'ottocento negli ultimi anni dell'ottocento chi firma a favore di questa campagna sono Bebel Kautsky e Ben Stein che al di là poi di certe traiettorie prese successivamente allora erano i rappresentanti del movimento socialista non solo pare che nella Berlino degli spartachisti queste questioni fossero emerse e infine quando nel 29 in Germania viene abolita viene abolito questo paragrafo quindi viene depenalizzata l'omosessualità salvo poi naturalmente essere nuovamente soggetta alla repressione la penalizzazione sotto Hitler e poi bisognerà aspettare credo gli anni 60 perché cambino le cose in Germania nel 29 finalmente viene abolito questo paragrafo 175 con i voti parlamentari dei comunisti e anche dei socialdemocratici in questo caso c'è da dire però dei comunisti siamo nel 29 quindi questo dimostra che lì c'erano ancora vive delle tradizioni in cui questa lotta contro quelle che oggi definiamo le oppressioni di genere era presente c'era c'era questa cosa e quindi che successivamente sia calata anche su questo l'ombra reazionaria dello stalinismo e che questo abbia determinato tutto quello di cui abbiamo discusso finora anche negli interventi che mi hanno seguito non ci deve far dimenticare che comunque anche su questo il marxismo rivoluzionario autentico ha una bandiera pulita che noi dobbiamo rivendicare e che dobbiamo proporre anche alle nuove generazioni che cercano un modo per sconfiggere queste oppressioni grazie 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 a tutti grazie a tutti